Ciao a tutti sono Bonf777, benvenuti in questo decimo episodio della mia carriera allenatore Oggi un episodino, abbiamo prima il Chelsea, poi il Manchester United Chelsea in campionato, United in Coppa, quindi mamma mia che episodio Finora stando veramente a meraviglia tutto Abbiamo il Chelsea, sarà abbastanza dura, però non lo so, siamo abbastanza sculati Quindi chissà, andiamo però a vedere chi usare Ma, visto che col Chelsea è una partita importante, io farei giocare tutti i principali Tutti i titolarissimi, sì, 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 ci sta Signori, West Ham Chelsea, partitina, chissà Voi mettete mi piace, commentate scrivendo qualcosa, non lo so, scrivete quello che volete No, datemi qualche consiglio, qualcosa come poter migliorare, tutte queste robe qui E dopo dobbiamo anche ricordarci di allenare i giocatori Beh, andiamo però adesso a sfidare il Chelsea Così, da niente, io stavo pensando, non lo so, per i fatti miei Così arriva il vantaggio del Chelsea, di testo Oscar Ma com'è possibile, scusa? Io stavo seguendo Non provo, però sto seguendo, guardate il cross, se l'è perso Se l'è perso così, vabbè 1-0 per il Chelsea, quindi Subito, pronti via, merda E in volo, e in volo, subito e in volo La parata di Courtois, dai che possiamo farci Dai, dai, dai Vai, vai, che mi tripa là dentro Song, vai, vai, vai Song, tiro Bah Mamma mia William, William, William Occhio del Chelsea, è tosta, è dura, è dura, è dura Vai in volo Vai in volo Portalo su, portalo su, c'è anche il compagno dentro In volo, non ci credo No Di niente Ma c'è Boateng A Boateng il Chelsea in difesa Finisce quel primo tempo, 1-0 Un vantaggio all'undicesimo di Oscar Tiene quel, tiene quel gol Oh, 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 Ramirez, Ramirez Fuori, Ramirez è un tiro di merda Bene, è già il secondo tiro che fa così E il tempo passa, il Chelsea inizia a far possesso Fa girare La vedo, la misura, mi sa che è finita 10 minuti mancano, pochissimo Matic Scusate, 10 minuti, da quando ho detto la frase prima Che continuano a girarsela Fabrica, adesso mi faccio buttare fuori uno Per un fallo Vabbè, è angolo Un minuto di recupero che finirà probabilmente adesso Quindi sconfitta contro il Chelsea Ci sta, ci sta È sempre il Chelsea Però 1-0 Così Oh, ma ti fai anche Ma ti spacco le tibie Finisce qui Sennò sarebbe stato rosso 1-0 per il Chelsea Niente Niente Vabbè, 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 vabbè Va bene, va bene, va bene Ci poteva magari stare il pareggio Non lo so Adesso però abbiamo lo United Cerchiamo di non farci buttare fuori pure in coppa Dai Ok, quindi tre giorni dopo Immediatamente abbiamo lo United in Capital One Uh, 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 lo voglio buttare fuori Voglio, voglio assolutamente passare Io vi ho già detto che Ci p***o sulle coppe Però un po' di turnover dobbiamo fare Ma sì, ho detto un po' di turnover Però nemmeno così grande Dai Ficcio giocare Noble Moses Non gigante perché voglio passare Dai Dai, dai dare Dai, dai Dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai, dai Guarda Mané Guarda Mané Guarda Mané Come la porta su Come la porta su Mané Ci accompagna il centro Ma perché è sul cross di merda Che cross di merda Mané Avanza Mané Avanza Mané Che va il cross Niente, niente, niente Da quella parte possiamo farcela Dalla parte di mare possiamo bucarli Eh, bucarli Stiamo bucarli non difficilmente Moses, Moses, il tiro Ancora De Gea Vai Payet, vai Payet, bella palla Payet, Payet Deviazione, stiamo giocando bene Si è già il trentatresimo, ma stiamo giocando bene Runei, Runei, Runei Prova ad andare, oh che fa Oh, che buona, sta morendo Moses un'altra volta, Moses un'altra volta Hop, dentro, Payet Gran palla per Payet, deviazione Si, no, si, no, vai, vai No, no, no 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 Boom, alta Stiamo giocando stra bene, ma non riusciamo a segnare Runei, Runei, no, 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 no Shou, se l'è allungata per saltare il difensore Meno male, meno male, meno male Vai Mané, vai Mané Facciamogli male, facciamogli male Facciamogli male, non così Vai Mané, bravo Dentro, e volò, il tiro E volò Mamma mia, pensavo non entrasse 1-0 E volò E volò Sì, 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 sì Pensavo, era così lenta, non lo so, si è buggato tutto Brie, Donald, e volò 1-0, bene, 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 bene Al sessantasettesimo E da Smalling Sì, se mi prendo un gol da Smalling Io chiudo la serie Cioè, se mi prendo un gol da Smalling all'ottantesimo così Chiudo tutto, cioè Dai, triplo cambio Che potrebbe anche aiutarci a chiuderla Dai, dobbiamo chiuderla Voglio, 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 voglio Continuare il percorso in coppa Gliela stavo pure passando Oh, no, no, Smalling Cosa ho detto prima? Canca Tranquillo, Marco, tranquillo Ah, Adriano Il più grande bastardo del mondo Che la tiene, eh, eh Fiero proprio Finisce qui Fuori lo United Da calci in culo Siamo passati Grazie al gol di Embolo Mamma mia Rimangono Liverpool, Chelsea Wes Bromwich Non ho visto chi Ah, no, ma ne rimangono ancora un botto Ma dai, ma dai, ma dai Che bello, che bello, che bello Siamo passati, siamo passati Bene, quindi Ehm Bah Questo episodio finisce qui Non mi ricordo cos'altro dovevo fare Boh, ricordatemelo Qua sotto nei commenti Se magari l'avevo detto prima E che cosa dire Sta andando bene Cioè, abbiamo perso quella con Chelsea Però abbiamo vinto quello di United Quindi mi va molto, molto bene Se il video ti è piaciuto Ah, seguitemi su Instagram Perché lo devo dire sempre Se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenti Da bomb 777 è tutto Ciao a tutti Il telefono